Uno dei giocatori emozionali del Folloneca Cavorrano, Lorenzo Liurni, che partita hai visto? Sei entrato nella ripresa decisivo perché hai conquistato il rigore, hai fatto un gran gol, alla fine 4-0. No, è stata una partita difficile, come ce l'aspettavamo, perché comunque se Silla non inventa un grande gol facevamo fatica a sbloccarla, perché comunque loro si difendevano bene e ripartivano, quindi abbiamo trovato qualche difficoltà che dovremmo analizzare in settimana, però dopo l'1-0 siamo riusciti a portarla in porto e a fare questa gran bella vittoria che ci proietta in una settimana bellissima, come hai detto tu prima, contro una squadra forte che è il Carpi e un quartiere finale di Coppa Italia che sono un bel traguardo per la società, ma soprattutto per tutti noi che giochiamo una partita importante. Senti, sei arrivato in corsa in questa squadra, in questo gruppo, però ti sei ambientato subito anche perché la Maremma, diciamo la verità, è bella, si sta bene, però qui c'è voglia di fare calcio, di arrivare a grandi traguardi e lui ha un pedigree, un passato, basta vedere le statistiche di quelli importanti. Ti ringrazio per i complimenti, sì, sono arrivato in una società seria, importante, ambiziosa, in una squadra forte, perché comunque la squadra è molto forte, e speriamo di concludere al meglio un'annata bella, un'annata che come ripeto domenica abbiamo la possibilità di fare un'altra grande partita, un'altra grande domenica e speriamo di continuare a fare bene, ad aiutare la squadra, il mister e la società che comunque mi ha dato fiducia e mi ha fatto arrivare in una società importante. Grazie a tutti.